...elettorale, elenco pubblicisti per il rinnovo del Consiglio regionale, votanti 1080, voti vari di 1035, voti nulli 38, bianche 7, falco 950. Giga 921, Eone 905, Fellico 912, Allora, primo dei nuovi letti, ha riportato voti Manzo numero 83, ma non ha raggiunto il quorum. Grazie a tutto il seggio elettorale che ha curato la parte del ministro, Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.